Bene, faccio la recensione di un gioco arrivato, si chiama gioco dell'aggancia all'elastico, è arrivato con un difetto di fabbrica, questa parte qua è solo infilata e non incollata. Come in tutti i giochi dell'aggancia all'elastico, bisogna dare l'illusione di agganciare un nido potetico elastico che si trova all'interno, ma questa parte qua non è stata lavorata, cioè non è stata incollata. Quindi abbiamo deciso di venderlo ad un prezzo scontato, piuttosto che incollarli noi tutti quanti, abbiamo preferito, ecco, proporre questo articolo ad un prezzo particolarmente scontato e chi lo prenderà, le istruzioni saranno del normale gioco, ma dovrà fare questa operazione, con un gocciettino di colla, di attack, messa qua, dovrà prendere e mettere un po' di hack in modo che rimane incollata all'interno, ma poi per il resto si procederà normalmente vedendo le videoistruzioni del gioco dell'aggancia all'elastico.